A Giulianova è stato riaperto stamattina al traffico il corso del Comune Costiero, il tratto est di Via Nazareosauro, la principale arteria dell'Ido, interessata dagli interventi di riqualificazione avviati lo scorso 27 settembre per un ammontare di 250.000 euro. E' stato dunque rispettato il desiderio dei commercianti espresso in occasione dell'incontro con il sindaco Francesco Mastromauro ed i tecnici tenutosi lo scorso 8 febbraio e cioè di riaprire la via tornando a parcheggiare le auto prima delle festività pasquali. Purtroppo siamo andati un po' lunghi rispetto a quello che era il cronoprogramma a causa delle condizioni di maltempo che ci sono state le scorse settimane però diciamo che sin da oggi potremo riaprire quel bellissimo tratto di strada completamente riqualificato e quindi permettere la fruizione anche alle macchine, ai veicoli di poter passare in quel tratto di strada così come richiesto dai commercianti. Completato questo lavoro si deve pensare agli altri che già sono in programma? Sì, intanto questo lavoro prevederà fra il 16 e il 17 d'aprile un intervento anche per quanto riguarda la pista ciclabile. Lì è programmato un intervento di rifacimento stradale. Inoltre questo progetto ricordo che contiene una serie di interventi relativi agli scivoli di raccordo che si trovano in una macrozona compresa fra via Simoncini quindi a sud di Giulianova sino ad arrivare a via Gasbarrini che permetteranno una maggiore e una migliore fruibilità degli scivoli sia da parte dei diversamente abili che dei passeggini. Quindi in questo senso terminato questo primo step interverremo per garantire una maggiore e una migliore mobilità.